Allora, a prescindere dal parco, la cosa importante è quello stemma, che lei vede perché è lo stemma Bagatti, quindi già si intende, insomma, a chi apparteneva a questa villa. Quindi Bagatti Valsecchi, collegati per di più ai personaggi di Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, sono questi due fratelli che erano poi proprietari della famosa casa-museo Bagatti Valsecchi, che c'è ancora oggi in Milano, in zona via Monte Napoleone. Questa era la timora di Campania, quindi quello stemma fa effettivamente capire l'originalità della loro famiglia. In ogni caso, la particolarità è che qui nella nostra villa non esiste uno stemma che metta insieme i Bagatti con i Valsecchi, quindi se lei vede i Bagatti sarà solamente qui, per di più, ecco, con questo tipo di risponte molto picciopriaco. Che vede lo stemma dei Valsecchi con il Giglio? Quindi le due famiglie che si uniscono, in questa villa l'abbiamo solo in questo modo, quindi purtroppo c'è questa distinzione.